Il NES, su uno mi compra, è un'innovativa citazione necessaria al console Nintendo uscita nel 1985 e in versione deluxe nel 2010, soprannominata col falso nome di VI. Ha una grande capacità grafica. Ben 8 B, 52 colori e 64 sprite, contemporanei manete sullo schermo. Ogni dato tecnico della console è copiato dalla più potente e famosa power player Superjoy. Nel 1985, era appena avvenuta la grande depressione dei videogiochi, dove non valevano più niente. Forse la causa era che Pong aveva stufato un po', o forse perché la gente scopava di più. Per quello o quell'altro, il mercato dei videogiochi e della zuppa di fagioli era in crisi. Fu allora che, in Giappone, un giapponese di nome Shigeru Miyamoto piegò in 5 un foglio di carta creando una scatola grigia rettangolare. Da un semplice origami, due fili qua e un chip li venne fuori una console per videogiochi. Data la grande inventiva dell'azienda, il nome scelto fu Nintendo, ma solo perché Miyamoto sembrava il nome di un motorino. In realtà, in Giappone il nome della console fu Famicom, ma oggi è roba da nerd e ci passo sopra. La console ebbe un successo strepitoso, venduta insieme al videogioco Super Mario Bros che vedeva l'eroe che gesta di un italiano in crisi di mezza età con manie di protagonismo correre sempre a destra e uccidere tartarughe saltandoci sopra per pomiciare con una donna che neanche conosce. Che successo? Un gioco dietro l'altro, il successo della console fu inevitabile. Vennero prodotti molti giochi, accessori e nerd per incrementare le vendite. Poi un giorno Nintendo creò il Super Nintendo, che faceva più figo perché riuscivi a vedere gli occhi di Mario per la prima volta, che potenza grafica. In Giappone, il Famicom continuò a vendere anche dopo, finché arrivò Godzilla che distrusse la sede giapponese Nintendo provocando il blocco della creazione delle macchine. Eh, in Giappone è così, ogni mesetto c'è da starci attento che non spunti un mostro marino. Successivamente, i giochi della console vennero venduti su Game Boy Advance e su Wii, nonché su milioni di cloni illegali come il Power Player Super Joy. 1985 Nel 1985 il NES era la prima console di videogiochi a non fare schifo, il che ha aiutato le vendite. Una persona su cinque aveva un NESM, nerdologia endomatica sfrontata, che portava all'acquisto impulsivo di una valanga di giochi merdosi su basse licenze di grandi film o a impugnare un guanto grigio e gridare Now You Replay With Power, anche se quel guanto era buono solo per tirare ceffoni imbottiti di chip. I bambini andavano matti per la console, per cui il giocatore medio era un bambino di cinque anni annoiato e asociale che giocava sempre con un gran sorriso stampato in faccia, era pieno di brufoli e mamma e papà gli stavano accanto mangiando biscotti e sorridendo. O forse quella era solo una pubblicità natalizia, oggi solo tre tipi di persone giocano al NES, nostalgici che lo ritrovano in soffitta. All'incirca, una persona su quattro aveva un genitore barra fratello barra sorella barra zio barra zia barra cugino barra cugina barra Flintstones in possesso di un NES. Per cui, spesso se ne ha uno in soffitta e non se ne è a conoscenza, questo non capita mai se si è Nintendari o nerd interessati alla console, per puro caso. Da piccoli magari li avete provati e vi siete divertiti, ma non li tirate mai fuori e preferite condividere per quelli che non hanno voglia di aprire la porta della cantina su FaceBook. Sì, sto parlando con te, coglione. Nintendari, un vero fan Nintendo che si rispetti ucciderebbe la propria madre per comprare un NES dovrebbe possedere un NES, console classica e storica dove si trovano alcune delle pietre militari della Nintendo come Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Street Fighter Turbo I, Unlimited Edition o Mamma o Perso l'Aereo 3. Non c'è molto da dire su queste persone, tranne che spendono, o rubano, tutti i soldi che riescono a trovare in giro pur di avere un NES funzionante e almeno una decina di giochi. Oh no, siete vicinissimi al terzo tipo di giocatore, nerd. Al 90% corrispondono alla seconda categoria, ma i nerd senza speranza che comprano giochi su giochi, fra cui Ghost Booster Extreme o Ninja Adventure in Fireland. GrandTitoli sconosciuti perché da collezione, se non altro perché scritti con doppia Z, comprano valanghe di giochi per NES e di accessori inutili come il GoldenAdaptor Genieck e Magic, un adattatore per giocare Grand Theft Auto su NES. Questi comprano tutti i giochi disponibili per NES, anche se il 99% sono cagate pazzesche. Le comprano, le provano una volta, urlano come matti perché gli fanno schifo, sbattono i giochi a destra e sinistra imprecando e bestemmiando per poi inserirli in uno scaffale insieme ad altri mille giochi identici per mettere in mostra la propria immensa collezione di alternative al sesso.